ciao a tutti finalmente lo xiaomi 14 ultra è con me insieme ad alcuni degli ultimi flagship lo xiaomi 13 ultra e l'oppo find x 7 ultra voglio mostrarvi formazioni sulla mia unità e quindi l'unboxing tanto catturo anche qualche foto il telefono saliamo dopo quindi c'è un charger da 90 watt il cavo usb type c null'altro quantomeno c'è mettiamo un po se dovrebbe esserci una cover qui perfetta che è bianca è molto più bella della nera che c'era con l'altro che è questa qui è chiaro questo quindi questa è la protezione leggermente più grande ecco il telefono che tolgo un attimo l'etichetta qui sotto quando vi faccio vedere la parte di sopra eccolo qui sembra un po più più chiaro di colore dell'altro lo mettiamo subito a confronto non saprei dire quali vi piacciono di più comunque sono davvero simili se non quasi identici davanti un po diverso qui un po diverso qui un po diverso qui questo è tutto alla prossima ok qui